Il prossimo 2-3 luglio a Montesilvano ci sarà il primo raduno del mare, un raduno di camion nuovi e di uso, comune, che è organizzato da un grande team. Durante l'evento saranno presenti punti ristoro e manifestazioni in cui verranno presentati i nuovi camion, del grande sponsor Duraccio, e uno stand di modellini dove si potranno comprare questi modellini, parti di camion, parti in acciaio inox e avremo show di ragazze, le nostre ragazze immagini, grandi sponsor a livello italiano e non solo. Vi aspettiamo tutti al primo raduno del mare dove troverete questi camion e camion di nuova costruzione. Andiamo ora ad incontrare la star dei produttori, Mario Duraccio, con la sua ultima creazione. Vi aspettiamo con l'ultima mia creazione, il raduno del mare, una settimana per farlo, in collaborazione con Mauro, che mi ha dato lo spunto per fare questa nuova bellezza, e con tante altre macchine che vi stupiremo.